Ecco, ehi, buondi! Un altro che mi sa che l'ho invaggioso al fetta con te stampa e casaccia. Io sono l'alice, sono lasciato e cresciuto da chi l'ho, in Bargaia. E il senso io è famoso, però, il grigio italiano della PGI in busca a Spareggia o in busca a Milona, la Parigia, la Parigia, al camocci infatti. Per cominciare a fare una padella bella calda, con io, io ho già un po' di olio, ma una volta chiaramente ho trovato insomma la sonja del chung per scaldare. Intanto, per scaldare il gras, la parigia, la parigia, la parigia e la parigia. Per parigia, al mare, le stiamo a tirare il cilino e la testina, le dobbiamo col petto e dopo la parigia. e poi, insomma, insomma le nostre camocci, mettiamo sempre un bel tocco di cibo, da cibo. Poi, nel frattempo, la nostra sonja è un bella caldo. E ora, un'ultima, mettiamo giù la nostra carne e ristrire. e ora, ancora la carne, la ciappa e il cibo si tratta in calù, abbiamo messo giù un bel tocco di speck. Un altro trucco, che avevamo usato la minona, era da ristrire sempre al brodo. non ci sia quella da ora, che ci sia il bucho. Ora, le fai enti un po' un bocci, mettiamo la padella e mettete al brodo in mano. Aggiungiamo il concettetto. Ora, aggiungiamo la nostra troia d'alloro, il rosmarino e la salvia. Ora, mettiamo sempre la padella fina. Ora, mettiamo già tutto, con il nostro buon vino. Una volta che c'è un po' il nostro vino, travasse tutto il pirofile per al forno. In ora, mettiamo la nostra buona carne entro al forno e tutti in grado. ma la lasciando minimo in un'ora di mese. Ogni quattro ore si può guardarli anche per la bambina, se non mettete anche un po' l'acqua. E basta sempre fare un po' la temperatura, quindi più o meno c'è tutta. In ora, che ho già messo la farina, mettiamo con la farina da castigna, mettendo un po' di sè. e poi mettiamo un po' di sè. E poi mettiamo due. Picchiamo un po' di sè. Ora, cominciamo a mettere con la farina e poi mettiamo in un'ora. Ecco, mettiamo in un po' di sè. e poi mettiamo in un po' di sè. E poi mettiamo in un po' di sè. E poi la lascio la parna mesurata per fare. E ora, mettiamo in un po' di pizzoca lì. Mettiamo la pasta e la spiace di caccia. e poi mettiamo in un po' di sè. Ho messo gli pezzi con un sacco di peccada, in un po' di grana e un sacco di pescola. e la pasta che faccio in ciza. Le passemo a una mesura e mettiamo la nostra carne dal forno. In questo sistema qui lo ha, la carne sarà più che la sè, più buona alla vite, la sempre bella sirina e tenera. Una volta era un menù pratico per fare la gestione, perché la gente si supera, Allora bisogna lasciarla con la pinzetta per ricevere i piatti gourmets. E noi ripariamo la roba, mettiamo nel forno e poi mettiamo sui campi lavoratori. Ecco, il momento più bello, le cose che si portano a Giorgio Cussell e senza mangiare. In un'ora che si poteva fare da differente, come a mia faccia in cio, in cui si mette anche un po' castegna, o ricciarda, l'hertambù, peperoni, etc. Una volta chiaramente mettendo quel che trovano in giro e io sai che io mi trovo in giro una volta altra. Ma è spero che sia buono e potessi mangiare da differente una volta. Buon appetito, grazie mille PG, grazie a me. E per questo video, grazie al team dell'Anducci, grazie al team della musica, e al cameraman e alla prossima. Buon appetito! Grazie a tutti!